Buonasera a tutti, grazie. È un grande piacere. È molto divertente parlare del tempo che score per un loco eroico come me, quindi dovrò in realtà combattere col tempo. Questa è la prima grande sfida e visto che appunto è pop sofia ed è la festa della filosofia pop vorrei subito partire riferendoci alla musica che ha accompagnato il video a Day in the Life dei Beatles, l'ultimo brano di Sgt. Pep, Lonely House Club Band, il disco forse più famoso, più iconico della storia del rock per la famosa copertina che appunto era una sorta di omaggio stesso alla cultura pop nel momento in cui per la prima volta la pop art da pochi anni era diventata diciamo così predominante nella cultura popolare. E Day in the Life è una canzone geniale dei Beatles, il crescendo, quella nota finale che abbiamo sentito, quel crescendo è una sorta di versione icastica in musica di questa concezione del tempo perché è una canzone che parla appunto di un giorno nella vita, John Lennon apre il giornale e trova una notizia particolare che lo colpisce e questo racconto viene inframezzato da una memoria proustiana potremmo dire di Paul McCartney, soltanto che invece di una Madeleine in quel caso si trattava del primo spinello di Paul McCartney, però diciamo che questa suggestione di carattere così peculiare ha anche suggerito quel grande rispiro psichedelico del brano. Nella storia della filosofia come accennava Lucrezia per definizione da sempre il tempo è stato una delle grandi sfide, una dei grandi assilli e visto che appunto paradossalmente il tempo è tiranno io lascerei all'inizio un'introduzione a un genio sottovalutato durante la sua esistenza e idolatrato a caso dopo la sua scomparsa ovvero Carmelo Bene il quale spesso delirava magnificamente sull'esistenza del tempo ma che in realtà appunto in questa breve pillola spiega in maniera molto lucida e potente qual è la distinzione tra le due concezioni del tempo che poi ha dilaniato il dibattito filosofico successivo. Prego. Dunque il tempo, i guai cominciano con Parmenide. Parmenide è il primo a pronunciare il termine essere, ahimè. Ammette tuttavia un disegnere dell'essere in quanto immagine mobile dell'eternità. Per gli stoici invece si opera finalmente una scissione netta tra il tempo Kronos e il tempo Aion. Ecco, il Kronos è destinato al quotidiano, al fraintendersi quotidie, è vero. Nell'Aion invece il passato, ora noi scandiamo una linea retta, questa linea retta è da una parte il passato e l'altra parte è il futuro, cioè quanto dovrà già accadere ma in effetti è già accaduto come alcune meteore, alcuni astri che noi vediamo precipitare, quelli sono precipitati milioni di anni fa, ci insegna una fisica anche da bignami, è vero. Il famigerato presente, questo punto, puntino, punticino tra il passato e il futuro, non esiste in realtà per gli stoici, dagli stoici poi non esiste, non esiste nemmeno nella fisica. Quindi non esiste un presente, ecco perché dico noi non siamo, noi saremo stati o saremmo stati o siamo stati in futuro, ma non c'è un presente nella Ion, nel divenire, nell'eterno ritorno dell'Uvale, non c'è assolutamente il tempo, sono tutti i nomi della storia, un'azione che è da compiere magari è già stata compiuta, come ho già detto, la fisica ben dimostra. Ha ragione Berson, il tempo è tra l'immagine e chi la virtualizza, attualizzandola davvero, è il tempo e il soggetto. Non è oggetto l'immagine di chi la virtualizza, attualizzandola, né del soggetto. Il soggetto è il tempo e il resto lo lasciamo davvero, insomma, invitando chi abbia interesse a compulsare la filosofia da una parte superamento di realtà della filosofia. Parlare dopo Carmelo Bene è una bella sfida, ma quantomeno vi apparirò perfettamente comprensibile. Diciamo che il genio di Bene nella sua ritorica travolgente spiegava in realtà un concetto che non è una fissazione intellettuale, ma qualcosa che effettivamente è stato dimostrato anche dalla fisica, non solo dalla famosa tesi della tria della relatività di Einstein nel 1905, ma anche proprio è stato dimostrato a livello fisico. La prima volta, mi pare, nel 1958-59 da Robert Pound, del suo allievo Repka, se non sbaglio, cioè se noi mettiamo un orologio in cima a una montagna e un altro lo mettiamo all'altezza del mare, in realtà, anche se meno è impercettibile, il tempo scorre in maniera differente. La relatività del concetto di tempo non è una fissazione dei filosofi, ma è un'intuizione che poi viene anche confermata dalla fisica. Quindi questa convenzione che è il tempo, tra poco vedremo un monologo molto efficace tratto da una serie di V che appunto già è presente nel titolo di questo incontro, domanda quanti di voi hanno visto Stranger Things? Quanti di voi hanno visto tutto Stranger Things? Ok, perché secondo me chi, come si suol dire, spoilerà, cioè rovina la sorpresa di una narrazione, dovrebbe essere perseguito penalmente dallo Stato, quindi per non cadere in contraddizione proverò ad essere vago e ambiguo. Diciamo che queste concezioni del tempo di cui appunto Carmelo Bene esponeva le differenze, appunto quella tra il tempo, lui appunto a Ion, il grande eraglido, il eraglido d'oscuro, il supremo pensatore, secondo me scioccamente chiamato presocratico. I filosofi presocratici vengono definiti dall'Italia, ma mica lo sapevano che c'era Socrates dopo, quindi anche questa è la perfetta dimostrazione di una convenzione temporale, come quando diciamo rinascimento o medioevo, qualsiasi evo è un medioevo tra il precedente e il successivo, quindi vedete anche come la concezione del tempo condiziona poi il nostro sguardo e quanti trivi, luoghi comuni sul medioevo, come epoca scura, quando in realtà il rinascimento è soltanto la prosecuzione e l'evoluzione di intuizioni straordinarie appunto del medioevo. Il medioevo che ha espresso un poeta come Dante e Dante soltanto nella concezione dantesca noi possiamo osservare e testimoniare la convivenza fra queste due concezioni. Citavamo eraglido perché eraglido appunto diceva che la Ion è un fanciullo che gioca, è un bimbo che gioca e questa concezione poi ritornerà diciamo in maniera diversa ma profondamente connessa appunto alle radici eraglidee in un filosofo citato senza menzionarlo da Carmelo Bene o Veronice e appunto il tema dell'eterno ritorno. Perché in Dante noi vediamo questa conciliazione di questi opposti da supremo alchimista della parola e del pensiero. Perché se la concezione greca è ancora prima indiana del tempo, è la concezione ciclica che noi troviamo per esempio in pensatori come Giovan Battista Vico, quindi appunto l'età dell'oro, l'età degli eroi, l'età del ferro, cioè quindi questo continuo ciclo di decadenza e poi rinascita, per esempio secondo i calcoli delle scritture hindù dovremmo essere nel cosiddetto Kali Yuga, l'età della confusione. Chissà come mai, stranamente hanno avuto questa parte di scherzi è interessante studiare questi testi profetici che attraverso dei calcoli astrologici in qualche modo ci prendono perché descrivono la nostra società in maniera abbastanza convincente. Però appunto dopo il Kali Yuga, secondo la concezione hindù, era il Satya Yuga, l'era della verità, quella che gli ippi vagheggiavano come età dell'acquario. Questo nelle religioni diciamo classiche, nelle antecedenti. Il cristianesimo apporta il concetto, come fu poi delineato da San Bannaventura da Bagnoreggio, di itinerarium, famosa itinerarium mentis in deum. La Divina Commedia è un percorso, è un itinerario e Dante, l'individuo Dante, compie il percorso nel tempo verso l'eterno che tutti noi dobbiamo compiere secondo la concezione cristiana. C'è la creazione, c'è la caduta e poi c'è tutto il percorso verso l'ultimo giudizio dell'Apocalisse e questa freccia nel tempo assume senso perché l'incarnazione del Cristo, come diceva Thomas Eliot, è un momento nel tempo e del tempo che dona senso a tutto il tempo. In Dante abbiamo sia questa concezione chiaramente dell'itinerario verso un fine, verso una meta, verso il paradiso ma anche c'è tutta questa memoria di questa concezione precedente. Ad esempio si ritrova, non sono certo io il primo a fare questa osservazione, nella messa, il rituale della messa è un rituale, vedete la sincronicità parlando di tempo, non ci siamo messi d'accordo. In questo senso il tempo ciclico si ritrova all'interno della freccia del tempo del cristianesimo perché ogni giorno, più volte al giorno, c'è questo rito di morte e risurrezione. Quindi il tempo ciclico all'interno della freccia del tempo. Tutto questo cosa c'entra con Stranger Things? C'entra perché adesso vedremo una breve clip, limitiamo lo spoiler, non diciamo chi è questo personaggio così chi non l'ha visto potrà ancora godersi la serie, ma c'è questo monologo molto interessante, il cosiddetto monologo del villain, cioè il malvagio che prima di uccidere il buono gli spiega tutto il suo piano infernale. In questo caso è un monologo filosofico molto interessante. Dove gli altri vedono ordine io vedo una camicia di forza, un mondo crudele, opprimente, fatto di regole inventate. Secondi, minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni, decenni, ogni vita è come una copia sbiadita della vita precedente. Svegliati, mangia, lavora, dormi, riproduciti e muori. Ciascuno di loro non fa che attendere, non fa che attendere che tutto finisca e lo fa mentre si esibisce in una sciocca, terribile commedia giorno dopo giorno. Io non potevo farlo. Non potevo chiudere la mia mente e unirmi a questa pazzia. Non potevo fingere. Potevo creare le mie regole, ristabilire l'equilibrio di un mondo rotto, un predatore. Produci, consuma, creva, cantavano i CCCP e questa è una intuizione che in realtà moltissimi pensatori, filosofi, poeti, dalla rivoluzione industriale in poi, insomma da quando il lavoro salariato è diventato grossomodo la regola del quotidiano nel mondo civilizzato, tutti quanti grandi poeti da Bollet alle guardi nel novecento più che mai hanno colto questo inganno di questa crudele convenzione, nel senso che chiaramente il fatto di dover consegnare questa virtualità infinita del tempo a nostra disposizione a qualcosa di fisso, di obbligato, conduce a questo tipo di riflessioni. Non è soltanto un discorso dell'era moderna collegata al lavoro otto ore al giorno, in realtà se noi andiamo a vedere ad esempio le leggende legate alla vita del Buddha, l'intuizione del Buddha, la ricerca spirituale del Buddha parte proprio dalla coscienza del decadimento, dalla coscienza della malattia e della morte, sappiamo appunto che siccome era stato profetizzato al padre del principe Siddhartha Gautama che lui sarebbe diventato o un monarca potentissimo o al contrario il più grande asceta, il padre per non far sì che il suo regno venisse diciamo in qualche modo in ognuno dei due casi il suo smarito, ha tenuto diciamo il Buddha prima che diventasse tale, prima che diventasse illuminato, costretto in questa prigione dorata affinché lui non vedesse la realtà esterna e quindi lo faceva vivere circondato da piaceri, ricchezza eccetera. Quando un giorno durante una parata il giovane principe ha intravisto prima una persona anziana poi un malato e poi in alcune versioni un funerale e in altre proprio un defunto, ha capito appunto che nel tempo, nella decadenza, nella malattia c'era la radice del male e che quindi il suo compito era quello di condurre l'umanità attraverso appunto la meditazione, la liberazione e la meditazione al di là di questa schiavitù del tempo che necessariamente ci inchioda al decadimento, alla malattia, alla morte. Non vi preoccupate, non sarà questa la conclusione del mio intervento, anzi l'idea è quella di come andare al di là del tempo e adesso vedremo l'ultima clip che è una sorta di versione moderna, postmoderna, ultra pop e salvifica, diciamo superioristica del concetto cristiano di Madeleine, è una scena che in questo caso non penso si possa giudicare uno spoiler perché ha avuto talmente tanto successo che Kate Bush ha guadagnato mi pare un milione e mezzo di euro in una settimana, quindi qualcuno già l'ha vista, se non l'ha vista almeno vi mettete a parico il resto dell'umanità. Prego, spiego brevemente per i pochi che magari non conoscono la serie, hanno detto che cos'è questo video. Stranger Things è una serie ambientata negli anni 80 che omaggia in maniera dichiarata e smarcata tutti i topoi delle narrazioni popolari degli anni 80, quindi da Star Wars a Nightmare, a It, a Kinnigunis, a Stand By Me, insomma tutti i grandi film popolari degli anni 80 e come tutti i grandi film degli anni 80, da Ghostbusters, insomma, e tutti quelli che ho già menzionato, ci sono questi ragazzi che devono, attraverso il gioco, l'immaginazione e la fantasia, scoprono l'esistenza di un male radicale, scoprono l'esistenza di un sottosopra, cioè di una versione malvagia, di una copia malvagia nel nostro mondo, tema platonico che adesso però non possiamo affrontare, la butto lì per chi ha nozioni di filosofia, e quindi devono, attraverso l'amicizia, la lealtà, l'entusiasmo, l'immaginazione e l'inventiva, devono combattere con queste differenti incarnazioni demoniache. In particolare in questa serie, questo personaggio mostruoso che avete visto, che si chiama Vecna, possiede psichicamente le persone facendo leva sui loro sensi di colpa e quindi li induce in questa sorta di stato comatoso, in questa lievitazione soprannaturale e in questo caso la protagonista si è salvata, altrimenti li conduce ad una morte orribile. Perché questa scena ci interessa? Perché i suoi amici, sapendo che lei continuamente ascoltava questa canzone di Kate Bush, Running Up The Hill, che appunto è tornata prima in classifica dopo 39 anni, prima volta che succede una cosa del genere nella storia della musica, almeno da quando ci sono le classifiche, decidono di mettere le cuffie con Walkman, quindi non è adesso facile come Spotify, vi ricordate all'epoca devono cercare il nastro, il momento giusto, e lei, come a volte capita davvero, questa è l'intuizione poetica, intelligente, come accade a molte persone che escono fuori dal coma, sentendo una canzone a cui sono legati, questa canzone fa affiorare le sue memorie felici, appunto con i suoi amici, lei ha una fase di depressione della sua esistenza, e quindi lei si sveglia dal coma e si salva da questa possessione. Nella versione chiaramente superioristica, con i mostri, con gli effetti, in realtà il concetto è semplice e potente, cioè perfino un pensatore pessimista come Schopenhauer diceva che per sfuggire alla vita, che è un pendolo, diceva lui non a caso, si vedeva il pendolo nel video precedente, Schopenhauer diceva che la vita è un pendolo fra dolore e noia, però per sfuggire a questo pendolo, a questa necessaria infelicità, i metodi sono il distacco, l'ascesi e l'arte, soprattutto la musica. Negli ultimi minuti a disposizione, vorrei fare due riflessioni brevi, a partire appunto da queste clip di Stranger Things, capire perché ha avuto così tanto successo, capire perché potrebbe essere un problema forse che ha avuto così tanto successo, e dall'altro invece capire perché in realtà è una scena così emozionante, ed è anche bello secondo me che questo tipo di messaggi vengono veicolati, dei concetti filosofici così complessi possono essere veicolati in una forma così avvincente. Stranger Things ha avuto questo successo straordinario, penso che sia la serie più vista nella storia di Netflix, o comunque la serie che ha reso Netflix così potente, perché gioca sulla nostalgia, e come dice un altro grande protagonista di una bellissima serie, Mad Men, che vi consiglio, anche quello un affresco temporale straordinario degli anni Sessanta, il protagonista Don Depper dice la nostalgia è un sentimento delicato ma potente. Stranger Things, io ho 43 anni, quindi mi ricordo esattamente, sono praticamente coetaneo dei protagonisti della serie, più o meno, ci riporta a noi che abbiamo più di 40 anni, alla nostra infanzia, ci sono tutte le cose che componenono la nostra infanzia, e quindi questa cosa ci fa piacere. Il problema è che è la cosa preferita dei ragazzi di adesso, e questo se da un lato ci fa piacere, perché io personalmente sono più contento magari che sentano Kate Bush rispetto a altre cose, se ci pensate però è drammatico. Vi faccio un piccolo giochino, se io vi dico anni Cinquanta, a chi pensate? Elvis, no? Bebop a Lula, no? Vi dico anni Sessanta, i Beatles, Bob Dylan, la guerra del Vietnam, Kennedy, no? Anni Settanta, David Bowie, il Glam, il Led Zeppelin, la disco music, no? Gli anni Ottanta, capiare, ci hanno fatto quattro stagioni di riferimenti, Michael Jackson, Madonna, di Guerre Stellare, eccetera. Anni 90, già l'impatto è minore, ma io me le ricordo, i Nirvana, l'Hip Hop, i Public Enemy, i Grandes, Michael Jordan. Il problema è che se adesso voi andate nelle palestre, i ragazzi hanno la maglietta di Michael Jordan, e si sentono Eminem, cioè negli ultimi 15-20 anni non c'è stato più qualcosa di così potente e carismatico da dominare l'immaginario. Se io chiedevo a mia nonna, nell'87, nonna, chi è Michael Jackson? Mia nonna lo sapeva. Adesso, se voi chiedete alle vostre nonne chi è il primo in classifica, possono conoscere i Maneskin, perché sono italiani, e quindi si parla solo dei Maneskin, però non c'è più un immaginaio dominante, e questa cosa è drammatica. In chiusura dico questo, Mark Fisher, che è un pensatore tragico e pessimista, e molto coerente, infatti si è suicidato, aveva notato questa cosa assieme al suo amico collega critico Simon Reynolds, che ha scritto un libro Retromania, Simon Reynolds è considerato probabilmente il critico musicale più importante del mondo adesso. E notava già questo fenomeno della retromania, se voi vedete le cose più viste su Netflix adesso sono la serie Obi-Wan Kenobi, spin-off di Star Wars, che è la prima puntata di Star Wars, prima che io nascessi, Stranger Things, sono tutti rifascimenti, omaggi, il signore dell'Anelli, Harry Potter, che comunque riprende dei precedenti, il famoso viaggio dell'eroe, dei topo ai precedenti, perché c'è questa mancanza di originalità? Da un lato può essere molto confortante per noi, da un lato è drammatico, perché non c'è più quel virtuoso conflitto generazionale, immaginate l'impatto dei Beatles negli anni 60, immaginate David Bowie quando è comparso in televisione, truccato per la prima volta, eccetera, adesso tutto quello che vediamo è già visto, è già consumato, è già copiato. Mark Fisher sostiene questo, il problema è politico, perché nel momento in cui, senza alcuna nostalgia ideologica, nel momento in cui è crollata l'alternativa al capitalismo, col crollo del comunismo, c'è stato solo il capitalismo, non c'era alternativa. Questo ha fatto sì che non si creasse nessun tipo di immaginario alternativo, nessuna utopia, nessuna volontà di rivolta, e questo ha appiattito in un'omologazione drammatica anche dal punto di vista artistico e sappiamo come appunto i poeti, gli artisti sono quelli che colgono lo zeitgeist, il sentimento del tempo. Adesso lo zeitgeist è ripetere stancamente, magari fatto in maniera molto convincente come Stranger Things, altre volte molto meno, ripetere il già visto. Quindi questa, e concludo, è forse l'epoca migliore per riflettere sul senso del tempo. perché è come se avessimo, appunto si diceva con uno slogan molto efficace, nostalgia del futuro. È come se non c'è più il futuro. Non voglio essere diciamo mal augurante, però se noi leggiamo i giornali, sperto nell'errore mondiale, c'è la pandemia, c'è una crisi in inter, prima la crisi accadeva ogni tanto, adesso siamo nella crisi permanente da 14 anni. Quindi, come possiamo andare al di là del tempo? Abbiamo citato il Buddha, abbiamo citato dei filosofi come Eraclido, probabilmente attraverso l'arte, attraverso la meditazione, che è una forma, se volete, più accessibile di ascesi, noi possiamo finalmente spezzare questo pendolo odioso tra dolore e noia. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.